Buonasera da Cecina, siamo qui con Coccio Russo al termine di una partita giocata con molto molto attaccamento da parte di entrambe le squadre, una partita che Cecina secondo il mio modesto parere ha meritato di vincere, ha comandato nel punteggio per circa tre quarti di gara a livello generale, una partita che io onestamente da esterno non ho ricordanze di aver cominciato a giocare alle 6 e aver finito all'8 e 10 con un giro di falli abbastanza grosso da parte di entrambe le squadre, però direi complimenti naturalmente per quanto riguarda la partita e ci voleva, dopo un derby perso provinciale, uno vinto, tra l'altro contro una squadra che non ha mai comunque mollato. Allora innanzitutto se mi permettete ci tengo a fare un saluto a Fabrizio, è una di quelle persone che comunque mi è sempre stata vicina, mi ha sempre fatto sentire il suo appoggio, gli avrei voluto regalare delle soddisfazioni in più, tante volte non ci sono riuscito, però spero che Dalla Su stasera sia contento di quello che può aver visto del basket Cecina e di come i ragazzi hanno comunque lottato per portare a casa questa vittoria. Abbiamo fatto una settimana migliore, per assurdo, perché siamo sempre allenati nemmeno in 10, però la squadra si è comunque sbarazzata un pochino di quelli che potevano essere i fantasmi della partita di Livorno. Probabilmente era anche semplice cercare di prendere uno sberlone e poi lavorare magari meglio, però ho visto già le facce, erano facce differenti, erano facce molto più convinte, molto più sicure e questo francamente è la molla anche per il quale entriamo in palestra e dobbiamo sempre riuscire a fare meglio. Se fosse stata una partita ad alto punteggio, vi dico la verità, sì sarei stato magari contento ugualmente di aver vinto, però questa partita mi lascia proprio un sapore di qualcosa di importante sul quale poter costruire e continuare un percorso secondo me importante. È stato un derby, è stata una battaglia, i ragazzi sono stati bravi a rispettare quello che è il piano partita, penso che ci meritassimo di vincere, però siccome io so cosa vuol dire avere le assenze dei giocatori, faccio un applauso anche a Andrea Dapprato che oltre ad essere comunque un amico e un ottimo allenatore, questa volta l'assenza di Giacomo Guerrieri probabilmente non è paragonabile, è quella di Tempestini e di Pedersini, quindi tanto onore anche a lui, tanto onore ai suoi ragazzi perché comunque hanno fatto una partita assolutamente galliarda e volentieri cosa nonostante le difficoltà. Quindi ci tengo a dire bravi anche a loro perché sono situazioni di emergenza non facili da gestire, noi ne sappiamo qualcosa, quindi tantissimi complimenti anche a loro. Sì direi, allora momento per momento il basket Cessina ha avuto dei protagonisti diversi, voglio ricordare Alessandro Sperduto che insomma con mezzo allenamento hai gettato sul parquet, voglio ricordare Aragagnin, voglio ricordare l'ultima stoppata di Capitan Pistillo insomma che in quel momento contro il suo ex compagno Salvadori che gli ha lasciato la fascia da capitano ha fatto una cosa importantissima, direi la squadra più che il singolo. Sì assolutamente, è inutile mettersi qui e andare a trovare quelle che possono essere le individualità quando poi il collettivo ha fatto la differenza su tutto, cioè è mancato francamente la percentuale a tiri liberi perché 18 su 31 a tiri liberi avremmo potuto... In settimana penso che tu dedichi un allenamento proprio a questa... Sì lo facciamo sempre per dire la verità però sai chiaramente la tensione è sempre massima soprattutto poi in un ambiente come questo qui io non voglio passare per quello che non sono perché tutti penso che a Livorno mi conoscono però francamente la tifoseria Palacanesto Livorno non siamo a quella di Fortitudo, Vigevano ma ne ricordo poche, cioè non ha uguali, poi chiaramente il bersaglio sono il bersaglio preferito ormai da anni però gli devo dire la verità che sono strepitosi, cioè tralasciando quello che è il passato Libertas, Palacanesto Livorno, cioè loro sono una delle migliori tifoserie d'Italia e quindi tirare i tiri liberi sotto con la pressione non era da poco, francamente 13 tiri liberi sono assolutamente tanti da sbagliare probabilmente l'avremmo chiusa un pochino prima però ecco ripeto lo sforzo della squadra e non del singolo è stato importante Alessandro Sperduto è un giocatore che abbiamo aggiunto sabato pomeriggio, io penso che sia un giocatore d'iniziativa e soprattutto tanti complimenti a quello che è la società che è riuscita a trovare un under assolutamente che gioca come un senior lasciandosi la possibilità anche di intervenire sul mercato da qui alla fine del giorno d'andata con un senior e poi la possibilità un altro aggiunta nel girone di ritorno quindi ancora tanti complimenti alla società perché si fa trovare sempre pronta e l'aggiunta di Alessandro che è giocatore d'iniziativa sicuramente è un'aggiunta importante abbiamo bisogno di inserirlo sempre meglio però è importante Bene, ringraziamo coach russo, lo lasciamo andare e ci vediamo qui fra due settimane con Pavia Buonasera di nuovo dal palazzetto di Cecina, siamo qui con coach da Prato che ha visto una partita molto combattuta come diceva anche coach russo fra l'altro coach russo ha speso giustamente a mio modesto parere dei complimenti per la tua squadra per come li hai messi in campo tenendo conto di due assenze importanti come Pedersini e Tempestini quindi i complimenti naturalmente sono sinceri da parte del coach anche da parte nostra una partita lottata, lottatissima fino in fondo Cecina è stata in vantaggio un po' più tempo di PL però diciamo che PL come nel suo DNA non ha mai mollato Allora innanzitutto ringrazio Roberto che oltre a essere un buon allenatore lo dimostrano le sue squadre per come giocano anche un caro amico detto questo hai già fatto l'analisi te della partita sicuramente Cecina è stata quasi sempre in vantaggio è scesa in campo con una grandissima aggressività questa sicuramente è derivata dal fatto che probabilmente nelle ultime due partite non si erano espressi al meglio quindi penso che questa settimana si sono allenati con più fame rispetto a noi che magari venivamo da due vittorie di cui una con 40 punti questo campionato è un campionato molto particolare anche i risultati di oggi lo testimoniano dove squadre che magari sembrano saluti poi la domenica dopo perdono e viceversa quindi è determinante e importante il lavoro che viene fatto in palestra Cecina oggi ha messo più aggressività più intensità di noi sin dall'inizio noi siamo stati bravi a restare in scia a restare in scia il primo quarto sotto 4 all'intervallo sotto 8 poi siamo stati bravi nel terzo quarto a riuscire a fare le cose che noi sappiamo fare meglio che sono sicuramente i canestri da 3 poi un blackout improvviso all'inizio del quarto quarto un 12 a 0 per Cecina ci ha tagliato le gambe e sicuramente merito di Cecina aver impostato la partita con grande aggressività che noi oggi non siamo riusciti a pareggiare sicuramente abbiamo delle problematiche a livello di infortunio perché abbiamo due giocatori come Tempestini e Pedersini che nei nostri pensieri a inizio anno dovevano essere in quintetto adesso non ci sono più Alessio Iardella che è praticamente della Supercoppa che sta facendo un allenamento massimo un allenamento e mezzo alla settimana quindi tre dei cinque giocatori che avevano testa di metto in quintetto in questo momento due non ci sono e uno c'è e non c'è a mezzo servizio a mezzo servizio quindi anche oggi abbiamo giocato con sette giocatori abbiamo fatto quello che potevamo però sicuramente non è bastata con Cecina che oggi assolutamente ha fatto un'ottima partita fra l'altro mancano poco i giocatori di esperienza cioè non è che ti stanno mancando tre ragazzini che comunque completano la squadra ma come diceva anche il coach giocatori di esperienza che sarebbero proprio il collante per il gruppo Allora, ok, è giusto allora io non sono uno che vuole piangere allora è giusto dire che oggi ci mancavano due giocatori e mezzo ma è giusto dire che anche domenica sabato scorso quando abbiamo vinto con Varese ci mancavano lo stesso due giocatori e mezzo e abbiamo fatto una partita sicuramente diversa rispetto a quella di oggi siamo entrati in campo con più determinazione abbiamo corso di più rispetto a oggi oggi invece abbiamo fatto più fatica a entrare nei giochi mancava già 10-11 secondi e non avevamo ancora appostato i nostri giochi d'attacco su metà campo quindi al di là del fatto sì che ci mancano infortuni però non bisogna stare qui con il fazzolettino a asciugarsi le lacrime questi siamo questi dobbiamo essere e chi entra in campo ovviamente deve moltiplicare le forze e soprattutto deve concentrarsi solamente sulla pallacanestro giocata e non su altre cose che gravitano attorno al campo ho capito tipo insomma la tifoseria comunque è stato no 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 la tifoseria l'ambiente no la tifoseria oggi no assolutamente sono stati bravi ci hanno incoraggiato mi riferisco soprattutto a dei fischi che ci possono stare ma non dobbiamo sicuramente deconcentrarci i tifosi oggi sono venuti in massa ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine diceva il coach che è il miglior e questo lo posso testimoniare anche io che insomma al vecchio palazzetto all'epoca di Tici di Edison insomma noi eravamo a tifare PL non Libertas e chiaramente lo posso testimoniare il grosso lavoro della tifoseria è vero anche quello che stavi dicendo sicuramente ci sono state fischiate a volte incomprensibili e c'è da dire io lo dicevo prima con coach russo io è tantissimo che vengo a vedere le partite e una partita che comincia alle 6 e finisce all'8 e 10 non l'ho mai vista ecco gli altri avevano già tutti finito quando qui ancora stavamo giocando ma allora la bravura di una squadra la bravura di una squadra oltre a quella a fare canestro a trea a difende forte a fare delle particolarità attiche durante la partita è anche quella di restare concentrata al di là che ci possa essere un fischio che si presuppone ti possa andare contro una volta dobbiamo stare concentrati cioè la palla canestro purtroppo è questa non è uno sport esatto cioè non sono 100 metri si parte tutti insieme chi arriva prima o dopo 100 metri ha vinto qui cioè tanti falli sono a discrezione dall'arbitro e quindi dobbiamo capire sin dall'inizio qual è il metro arbitrale che oggi c'è e noi oggi questo non siamo riusciti a capirlo e questo invece con una squadra che magari è un po' più esperta un po' più esperta dovremmo essere bravi a capire ma come siamo stati domenica scorsa a capire il metro arbitrale due settimane fa quando abbiamo vinto con Piombino quindi assolutamente non sto dicendo che dobbiamo mettersi via a piangere se abbiamo perso il colpa dell'arbitro assolutamente no oggi Cecina si è meritata di vincere al 100% queste partite però quando si perde dobbiamo essere bravi a prendere quello che di buono ti devono dare e quello che oggi ci insegna questa partita è che noi dobbiamo concentrarci solo sul giocato e non quello e non tutto quello che c'è intorno e non mi riferisco ai nostri tifosi che sono stati anche oggi super ecco fra l'altro quello che c'è sta d'intorno la cosa bella cioè oggi abbiamo visto un palazzetto pieno qui a Cecina tantissimi ragazzi del settore giovanile del basket Cecina che sono il futuro come del resto lo sono quelli di Livorno e della PL come dicevi un grosso apporto da parte della tifoseria io devo dire anche una grossa onestà da parte tua nell'analisi della partita e appunto nel cercare quelle che sono le cose da correggere da qui in avanti ok? ok allora ti facciamo tanti auguri naturalmente perché a parte la partita che giochiamo direttamente per tutte le altre noi tifiamo per la PL siamo targati lì tutti e due certamente quindi non solo targati lì però c'è anche ecco onestamente io devo dire c'è anche un'altra squadra targata lì ricordiamocelo sì va bene ce ne sono altre due della provincia ok per noi per noi diciamo la fortuna che è venuta su PL per noi è una bella cosa ecco devo dire che i rapporti nostri di Cecina con Livorno sono sempre stati ottimi e il fatto di non avere squadre ad alto livello a Livorno purtroppo pesa anche sulla provincia e questo penso che tu sia d'accordo sono d'accordissimo io l'unica cosa di che oggi sono contento che sia stato tutto il palazzetto pieno noi l'altranno abbiamo fatto la Cigold dove potevano entrare solamente gli addetti a lavori 50 persone era onestamente per un addetto ai lavori come me come ragazzi che giocano ma anche come gli abiti ufficiali di campo è una tristezza giocare senza nessuno senza pubblico il bello il bello per gli allenatori i giocatori è anche quello di giocare di fronte ai propri ai propri spettatori al proprio pubblico e cercare di dare delle gioie noi oggi abbiamo perso una partita ma alla fine la nostra curva ci ha chiamato ci ha applaudito e ha capito che siamo in un momento di difficoltà perché appunto abbiamo delle infortuni ce l'abbiamo messa tutta potevamo essere un po' più precisi sicuramente in alcune situazioni e purtroppo oggi quando non si è preciso è colpa tua ma sicuramente un po' di merito ce l'hanno anche l'avversario bene ringraziamo Cocce da Prato vi salutiamo ti auguro davvero tanto bene per le parti future ok ciao a tutti grazie a tutti